Io sono molto contento per questi golove. Importante per la nostra squadra questi due partiti perché abbiamo vincere una grande vittoria contro Genoa. Ancora io molto contento. A me mi piace tanto Palermo e io contento che sono qua. Adesso abbiamo 40 punti, squadra più tranquilla. Abbiamo ancora 7 partiti, quanto più punti prendiamo è più meglio. Io volevo fare di più golove ma è difficile. Io penso che per il prossimo anno la squadra è pronta per l'Europa. Grazie al mister ho imparato tanto di lui. No, è una difficile partita perché Parma è una grande squadra, ottimi giocatori. L'ultimo partito loro giocano bene, è una difficile partita. Quanto ti ha sorpreso Paolo? Pensavi che fosse così forte quando sei arrivato a Palermo? Lui è troppo forte, lui è un calciatore ottimo. Lui è troppo forte, lui è troppo forte, lui è troppo forte. Grazie a tutti.